Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale ditelo do io il dungeon io sono Lorenzo e sono attenzione ai quiz il vostro dungeon master vintage sì vintage o vintage oggi sono qui con voi per andare a vedere quali sono i quiz più difficili pubblicati nella sezione community del canale del mese di ottobre come non conoscete la sezione community con i miei quiz allora fate così aprite youtube andate all'interno del mio canale te lo do io il dungeon si troverà naturalmente la schermata iniziale con tutti i video che pubblico di settimana in settimana ma poi c'è anche la casella community che potete cliccare all'interno da un po di tempo da giugno fine giugno e primi di luglio ho iniziato a pubblicare settimanalmente tre o quattro quiz sulle regole di dnd quinta edizione non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno il mio vuole essere semplicemente un gioco ed uno stimolo per sia apprendere le regole di dnd quinta edizione ed anche per ripassarle eventualmente lo potete usare anche per sfidare i vostri amici e vedere chi eventualmente ha ragione approfitto ancora di questo spazio introduttivo prima di vedere i tre quiz difficili di ottobre per rispondere ad una domanda che penso possa interessare tutti quanti e mi è stata posta da Stefano un utente che mi segue credo da quando ho aperto il canale pertanto ciao Stefano e grazie per la domanda allora Stefano mi ha chiesto se io vedo le risposte dei singoli utenti allora la risposta è assolutamente no cioè i quiz sono assolutamente anonimi quindi io vedo il numero totale di persone che hanno partecipato che ne so 70 hanno risposto ai quiz e poi vedo le percentuali come si distribuiscono i voti tra le varie risposte ma non so assolutamente quale utente risponde a quale domanda assolutamente no quindi fateli e siete sicuri di essere nell'assoluto anonimato sicuramente da parte mia non arriverà nessun giudizio nei vostri confronti a bando alle ciance andiamo a vedere pertanto i tre quiz più difficili di ottobre 2023 partiamo pertanto dal quiz che si è posizionato al terzo posto gradino di bronzo quindi per il quiz numero 58 vediamolo a schermo il quiz numero 58 ha avuto ben 70 risposte vuol dire che è stato parecchio parecchio partecipato andiamo a leggere pertanto la domanda allora il terzo beneficio del talento sentinella vi permette in estrema sintesi di usare la reazione per effettuare un attacco con arma da mischia contro una creatura che effettua un attacco contro un bersaglio diverso da voi punto il vostro attacco viene sferrato prima o dopo l'attacco della creatura? andiamo a vedere le possibili risposte la prima risposta è prima poiché è una reazione la seconda risposta invece è dopo poiché è una reazione qui ho un po' giocato con le risposte in quanto vedete che la prima contraddice la seconda e tutte e due sembrano essere molto imperative e affermative e poi la terza invece è quando effettua il tiro per colpire ma prima che tiri i danni per rispondere correttamente a questa domanda bisogna prima di tutto chiederci che cos'è una reazione e poi andare a leggere bene il terzo beneficio del talento sentinella allora andiamo a vedere che cos'è una reazione e apriamo il manuale a pagina 190 manuale del giocatore allora le reazioni cosa sono le reazioni? una reazione è una risposta istantanea ad un innesco di qualche tipo che può verificarsi nel turno del personaggio o nel turno di qualcun altro allora non approfondiamo troppo qui ci soffermiamo semplicemente che è una risposta istantanea ad un innesco di qualche tipo quindi bisogna capire quando avviene l'innesco cioè se avviene prima o dopo andiamo pertanto a vedere cosa dice il terzo beneficio del talento sentinella a pagina 170 allora quando una creatura entro 1,5 metri dal personaggio effetto un attacco contro un bersaglio diverso da lui e quel bersaglio non possiede questo talento va bene il personaggio può usare la sua reazione per effettuare un attacco con un'arma da mischia contro la creatura attaccante quindi l'innesco qui è quando la creatura entro 1,5 metri dal personaggio effetto un attacco contro un bersaglio diverso da lui allora effettuare un attacco vuol dire che quella creatura ha effettuato un tiro per colpire e quindi in effetti quella creatura ha già attaccato e comunque mi ha ignorato ora in quel caso lì la risposta corretta è dopo ecco se non siete convinti sappiate che questa spiegazione è data anche nel compendio delle regole di D&D e dove si trova il compendio delle regole di D&D? lo trovate sul sito di D&D Beyond pertanto andate nella sezione che ora vi indico a video ed ecco qui cliccate nella seguente icona e potete trovare il compendio delle regole di D&D ovvero sia le spiegazioni ufficiali per quanto riguarda l'interpretazione di alcune regole un po' problematiche ed ora andiamo a vedere il quiz che si è posizionato al secondo posto nel mese di ottobre allora io credevo che questo quiz si sarebbe classificato al primo posto no invece è arrivato al secondo posto quindi si vede insomma che avevo sbagliato i miei conti comunque il quiz numero 53 la sua domanda è molto breve allora ve la vado a leggere e ve la metto a video un druido paladino quindi un multiclasse è un personaggio di fatto biclasse che sia druido che paladino in forma selvatica può punire? e qui vi voglio la prima risposta era no per punire si deve impugnare un'arma la seconda risposta no gli attacchi delle bestie sono considerati colpi senza armi la terza risposta si se la bestia attacca tagliando o perforando e la quarta risposta si può farlo ora andiamo a vedere a pagina 98 del manuale del giocatore che cosa dice punizione divina quando il paladino colpisce una creatura con un attacco con un'arma da mischia può spendere uno slot incantesimo per infliggere danni radiosi al bersaglio in aggiunta ai danni dell'arma ora torniamo pertanto al nostro quiz la prima risposta diceva no per punire si deve impugnare un'arma ma se avete presente qua dice un attacco con arma da mischia e aggiunge questi danni aggiuntivi ai danni dell'arma quindi non parla di impugnare un'arma quindi la prima risposta è sbagliata ho ottenuto un 24% di risposte perché? perché si fa confusione se avete seguito anche i miei video sul discorso con i colpi senza armi infatti voi sapete che il paladino in D&D quinta edizione non può punire con i colpi senza armi devi per forza usare un'arma attenzione usare un'arma non impugnare un'arma quindi risposta numero 2 no gli attacchi delle bestie sono considerati colpi senza armi niente vero poi vi dirò il perché gli attacchi delle bestie non è vero che sono considerati colpi senza armi invece è vero che alcuni umanoidi le cui razze possono essere utilizzate come personaggi per costruire il vostro personaggio e hanno magari degli attacchi con i taglioni con gli artigli, col morso che vengono considerati colpi senza armi quindi comunque anche questa risposta poi vi spiegherò meglio non è corretta la terza invece si se la bestie attacca tagliando o perforando e questa l'ho messa proprio per divertirmi per raggiungere confusione e variabilità e la quarta si può farlo che è la risposta corretta ora però andiamo a vedere perché è la risposta corretta allora attenzione le armi in D&D quinta edizione sono solo di quattro tipi ad esempio ci sono le armi semplici le armi da guerra e queste le conosciamo tutti poi abbiamo le armi improvvisate e le armi naturali le bestie solitamente attaccano con armi naturali quindi artigli, morsi, corna e altro quindi quando un druido si trasforma in bestia in forma selvatica non attacca con colpi senza armi ma attacca con armi naturali gli attacchi delle bestie non sono da confondere appunto con gli attacchi di alcune razze che possono attaccare con gli artigli e morsi per effettuare colpi senza armi cioè razze che vengono utilizzate per costruirsi il personaggio quindi sì quando un druido paladino o questo strano multiclasse si trasforma in forma selvatica lui attacca utilizzando delle armi e non dei colpi senza armi ed utilizzando delle armi può anche punire in quanto lui non ha bisogno di impugnare queste armi l'importante è che lui faccia un attacco con arma da mischia e non a distanza attenzione e quindi con le armi naturali lo fate e può aggiungere la sua punizione ai danni dell'arma ed ora il quiz più difficile in assoluto di ottobre il quiz numero 60 e andiamo a vedere come mai è stato considerato così difficile allora questo quiz hanno risposto 61 persone allora la domanda faceva così se dormite con addosso un'armatura media vi svegliate con quale malus? a dormire in armatura è sempre stato un problema perché puntualmente come te la togli quella notte capita qualcosa allora questa domanda non è affatto facile rispondere perché tra le risposte ho aggiunto ovviamente delle cose di buon senso che magari vanno a pescare da qualche vecchia edizione di D&D o che comunque un master potrebbe improvvisare se non conosce la regola e le impone in quel momento al tavolo da gioco allora andiamo a vedere le quattro risposte allora la prima risposta è se dormi quindi in armatura media ti svegli con quale malus? ad esempio con svantaggio il tiro per colpire svantaggio il tiro di salvezza e svantaggio le prove di abilità praticamente è come avere tre livelli di indebolimento questo naturalmente è particolarmente gravoso forse è eccessivo la seconda risposta invece si subisce un livello di indebolimento e qui tutto sommato uno potrebbe pensare beh in effetti potrebbe avere senso che uno se dorme male poi si alza la mattina indolenzito che è vintaggio e come me lo sa la terza risposta invece si recuperano solo metà dei dati vita ovviamente questa è una meccanica legata più a D&D quinta edizione con il discorso di dati vita e il fatto che quando si riposa si recuperano tutti i dati vita e quindi qualcuno poteva essere indotto in tentazione a rispondere a questa terza domanda no allora la risposta corretta invece era la quarta risposta ovvero sia si recuperano soltanto un quarto dei dati vita e non si recuperano livelli di indebolimento quindi tutto sommato dormire in armatura media non è così gravoso ho messo nella domanda armatura media uno magari poteva farsi delle domande e dire ma magari quindi se dormi in armatura pesante o leggera ci sono dei malus differenti allora dove è scritta questa regola? ora capisco che non tutti potevano rispondere in quanto questa regola si trova nel manuale di Xanatar e magari voi non tutti quanti ce l'hanno insomma allora lo trovate a pagina 77 e c'è proprio un paragrafo dedicato che si chiama dormire in armatura allora innanzitutto chi dorme in armatura leggera non subisce effetti nocivi quindi potrebbe essere se il vostro master puntualmente vi fa capitare qualcosa quella notte in cui vi togliete l'armatura mettetevi almeno un'armatura leggera per andare a dormire ecco invece non c'è assolutamente nessuna differenza tra indossare un'armatura media o pesante quindi il malus è lo stesso se dormite in armatura media o in armatura pesante quindi non recuperate i livelli di indebolimento e recuperate soltanto un quarto dei dati vita mamma mia con questi quiz sto proprio facendo una mania allora prima o poi qualcuno mi inviterà e mi farà una sequenza di quiz uno più difficile dell'altro li farò una figuraccia incredibile e nessuno più risponderà e seguirà il mio canale allora invece vediamo fino a dove voglio spingermi con questi quiz sicuramente voglio arrivare almeno al quiz numero 100 e poi magari fatto 100 farò 101 allora credo che il quiz numero 100 che ancora non ho inventato sarà pubblicato penso per gennaio per ora ho vari quiz programmati già inseriti nella sezione community del canale e quindi questi dovrebbero coprire fino a metà dicembre pertanto se non mi capita qualcosa va bene almeno fino a metà dicembre dovreste arrivare ai quiz 84-85 se non sbaglio comunque ho intenzione di andare avanti ancora e chissà fin dove potremmo arrivare qualche quiz è un po' più semplice è un po' più generico altri invece magari va a scavare un po' più a fondo insomma cerco anch'io a seconda del video che sto facendo in quel momento e magari dell'approfondimento che sto realizzando di magari ogni tanto mi viene in mente qualcosa che potrei chiedere e su cui potrei farci un quiz allora ragazzi con questo è tutto io vi saluto buon gioco a tutti e arrivederci ai prossimi video sul canale e naturalmente anche sul mio blog te lo do io dungeon.it ciao ciao ragazzi buon gioco a tutti ciao ciao buon gioco a tutti Grazie.